Ciao a tutti amici e amiche, io sono Lidora Grey Simmer e oggi siamo qui con la seconda parte dell'aggiornamento della mia Current Household. Ciao a tutti amici e amiche, bentornati in questa seconda parte. Purtroppo non ho ancora letto i vostri commenti perché sto registrando questa seconda parte proprio un attimo dopo aver registrato la prima. Adesso ragazzi è il momento di parlare perché qui abbiamo la prima delle gemelle che ho intenzione di mostrarvi e quella che mi ha causato più drama e che ancora continua a causarmi più drama. Signore e signore abbiamo Veronica Ortis, la maggiore tra virgolette le gemelle, comunque lei dice di essere la più grande perché è nata un minuto prima della sorella gemella. Lei non è, ragazzi e ragazze, non è l'erede. Questa appunto è la cosa che mi fa più ridere, che lei non è l'erede ma cerca in tutti i modi di attirare la mia attenzione creando drama appositamente su di lei. Non che la sorella non ne abbia creato, però lei è proprio irrefrenabile, ma proprio non si ferma mai. Infatti per questo mi piace anche un sacco giocare anche con lei, soprattutto sapere cosa fa durante la mia assenza. Perché ho installato ragazzi e ragazze, la MC Command Center, la Wicked Wimps, quindi un po' di casini ci sono stati. E niente, è successo un po' di casino, però partiamo dalle basi. Da piccola è sempre stata, tra virgolette, la principessa di casa. È sempre stata molto coccolata dalla mamma, di meno rispetto al papà perché Alice, ovviamente l'altra sorella, era quella più legata tuttora al padre. Entrambe hanno avuto la passione e la creatività sempre grazie a Taylor, che praticamente le ha ispirate appunto nel proseguire nel loro percorso della creatività e quindi loro, diciamo, hanno seguito i consigli appunto della madre. Tutta questa spiegazione appunto per dirvi che entrambe le sorelle sono creative ma dal punto di vista differente. Infatti Veronica, un po' come Felix, ha sempre avuto, diciamo, la passione per i dipinti, per la moda, per i social media. È sempre stata, tra virgolette, la regginetta anche della scuola, della classe, la più popolare della scuola e anche la più brava appunto a scuola. L'esperienza scolastica è stata perfetta sia dal punto di vista dei voti, sia dal punto di vista della popolarità, al contrario però della relazione, delle relazioni amorose, perché, ebbene sì, sono successe davvero tantissime cose, sia quando era bambina che anche in periodo adolescenziale. Questo drama è iniziato proprio nel periodo in cui, praticamente, la nostra Alice, diciamo, ha conosciuto il figlio della migliore amica di Taylor, ovvero la donna, la ragazza bionda che vi ho fatto vedere nel precedente episodio, praticamente, quel figlio, ragazzi, mi è da ridere perché questa, praticamente, è la famiglia che ha creato mia sorella in questa partita. Il figlio di questa semina bionda si chiama John Cook. Hanno passato tutta l'infanzia insieme, l'ha conosciuto, ovviamente, anche Alice, cioè entrambi, tutti e tre scherzavano, scherzavano, si divertivano, sono cresciuti insieme, tra virgolette, sono divertati anche migliori amici. Solo che Veronica, amici e amiche, ha sempre avuto una cotta stratosferica per John Cook, come me ne sono accorta da bambina. Lo fissava in continuazione, i desideri erano sempre incentrati su John Cook, chiedi come stai, abbraccia, aiuta a fare i compiti, comunque, cioè, stavano sempre insieme. Ogni scusa era buona per vederlo. E anche lui, appunto, diciamo, amava andare a casa, appunto, delle gemelle, giocare insieme a loro, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema, dove è cominciato? In adolescenza, ovviamente, come sapete, Veronica, come vi ho già detto, Veronica è diventata la queen bee della situazione molto popolare a scuola. Ha fondato, diciamo, un gruppo in cui, diciamo, c'era anche, ovviamente, anche John Cook, perché lui, appunto, me lo immagino un po' come il quarterback americano, no? Tipo lo sportivo, anche lui popolare, che sta insieme alle popolari. No, non sto parlando nel mondo di patti, parlo, appunto, di una sorta di visione di scuola americana. È stata molto impegnata con la vita scolastica, diventare comunque rappresentante d'istituto, e cominciava a stare sempre meno a casa, però la cotta per John Cook, ovviamente, non cessava, era sempre presente. Tra l'altro, quando lei ha fatto il compleanno, non mi posso dimenticare mai questa cosa, lui è entrato, praticamente, a casa di Veronica, comunque, a casa Ortis, ha preparato una torta per Veronica il giorno dopo, perché il giorno precedente, ovviamente, non era venuto alla festa, e non si sa per quale motivo, forse perché si è sentito in colpa, ha preparato una torta proprio per lei, scusandosi, appunto, di non essere stato, di non aver partecipato, praticamente, alla festa del giorno precedente, e lei, ragazzi, proprio innamorata, con gli occhi a cuoricino, e quindi pensava, ma sicuro mi ama, cioè, nel senso, ha una cotta per me, anch'io ce l'ho una cotta per lui, io non sono stata mai con nessuno, non ho rifiutato sempre tutti, tutti i ragazzi più fighi per lui, cioè, in poche parole, lei gli è sempre andata dietro, solo che John Cook, ovviamente, non mostrava, tra virgolette, segni di, diciamo, di un qualcosa in più, cioè, non c'era proprio quella chimica, che, praticamente, c'è di solito quando c'è una coppia bella forte, c'è una ship bella forte, non c'era questa chimica, per lui, diciamo, Veronica è sempre stata un'amica, cioè, parlando, appunto, metaforicamente parlando, e un giorno ha deciso di mettersi insieme a John Cook, si è dichiarata, e John Cook, secondo me, e, ovviamente, ha accettato, perché, appunto, non voleva perdere né la sua amicizia, né il suo rispetto, e anche perché, ammettiamolo, Veronica è una bella ragazza, non si può dire nient'altro, magari, quella chimica, tra loro, si sarebbe potuta sviluppare, magari, conoscendosi un po' più approfonditamente, se ci siamo capiti un po', diciamo, da questo punto di vista, e quindi hanno cominciato a frequentarsi. Il drama, dove è sorto? Ho scoperto che, praticamente, John Cook è sempre stato innamorato, in realtà, ha sempre avuto una cotta segreta per la sorella gemella, per Alice. Alice è sempre stata, diciamo, la sorella più creativa, suonava in una band, ha sempre suonato la chitarra, e lui l'andava sempre a trovare dopo le lezioni, e, praticamente, la loro amicizia si è sviluppata sempre a casa di Veronica, quando lui, appunto, è andato a trovare un giorno Veronica, e, siccome lei non c'era perché, appunto, era ad un'attività extracurriculare, ovvero quella del drama, appunto, della recitazione, eccetera, quindi ne ha approfittato per aiutare Alice, diciamo, nel suo progetto, perché l'ha vista in difficoltà, e quindi ha deciso di aiutarle. Lui, comunque, lui ha sempre avuto gli occhi, diciamo, su sua sorella gemella, e, ragazzi, come me ne sono accorta, perché, appunto, dal pannello delle prime impressioni, mi è spuntata proprio cotta. Lui era sempre nervoso in presenza di Alice, ha sempre provato, appunto, questa attrazione per Alice, eccetera, eccetera, e, ragazzi, cioè, che drama, che drama. E cos'è successo? C'è stato, appunto, un periodo in cui, ovviamente, John Cook veniva sempre a casa, Ortis, sempre, per andare a trovare, ovviamente, la fidanzata, ma anche perché era lei che lo costringeva a venire a trovarla, sempre, gli mandava sempre messaggi, perché non mi rispondi, perché non mi chiedi mai un appuntamento, viene a casa mia, ceniamo insieme, ci sono i miei, tanto ci conosciamo tutti quanti, e, ragazzi, il fato, cosa ha voluto? Che quando, praticamente, il padre, ovvero Brooklyn, ha visto John Cook parlare insieme ad Alice, sapendo che John Cook e Veronica, praticamente, stavano insieme, o comunque Veronica aveva una cotta per John Cook, l'ha guardato malissimo, cioè, quando si dice che, appunto, i genitori sanno già, cioè, captano già qualcosa, fin da subito, per lui, diciamo, gli puzzava qualcosa, diciamo, Veronica nota a John Cook fissare intensamente, tra virgolette, la sorella, mentre suonava la chitarra, e lì, appunto, le sono venuti i dubbi, anche perché ogni volta lui e John Cook andava sempre a parlare con la sorella, parlavano sempre i nuovi argomenti, lui, comunque, con lei scherzava di più, mentre con Veronica, diciamo, si scambiavano soltanto dei bacetti, eccetera. Veronica ha cominciato a pensare, ha pensato, appunto, che magari, appunto, la sorella, in realtà, avessero una cotta segreta anche lei per John Cook e la tenesse segreta, in realtà, quei due, appunto, si vedessero di nascosto, diciamo, alle spalle di lei, cioè, ha cominciato, appunto, a pensare male della sorella, anche perché il rapporto che Veronica ha sempre avuto con Alice è sempre stato molto stretto, entrambe si volevano molto bene, quindi, sentire, diciamo, questa, cioè, avere queste brutte sensazioni del fatto che, appunto, magari, che il suo fidanzato potesse avere una cotta per sua sorella, ha cominciato, appunto, a darle una fastidiosa stretta, diciamo, allo stomaco, quindi, diciamo, ha cominciato ad insultarlo molte volte, a cercare dei litigi per capire un po' da che parte stava, finché, appunto, un giorno non si è decisa a sputare il rospa, a sua sorella, ovviamente, l'ha presa da parte, ha detto, ma a che gioco stai giocando? Ha chiesto, appunto, a sua sorella Alice, Alice, ovviamente, l'ha guardata stortissimo, mi fa, ma che stai dicendo, Veronica, ma che ti sei bevuta al cervello, per caso? No, tu a che gioco stai giocando? Io lo so che è una cotta per Jungkook, eccetera, io so tutto, so che vi vedete di nascosto, so che in realtà lui sta con me per, diciamo, per altro e quant'altro, eccetera, eccetera, ha cominciato praticamente a litigare, ha accusato la sorella di tante cose, Alice ha provato a spiegarsi per quanto riguarda, appunto, questa situazione, ma niente, Veronica non ne ha voluto sapere, non l'ha voluta sentire per un periodo, nel senso che non stavano sempre alla stessa stanza, ma praticamente si parlavano raramente e ovviamente Alice, diciamo, era offesa, ha cominciato ad evitare anche Jungkook da quel punto in poi, perché appunto lei non provava proprio niente e non prova niente per Jungkook, proprio zero, solo amicizia e quindi c'è stato un po' questo scontro, infatti anche a scuola si ignoravano quando c'erano appunto degli eventi, solitamente appunto entrambe si occupavano diciamo delle organizzazioni degli eventi, ma lei preferiva farle da sola, c'è stato appunto un periodo molto lungo in cui non ci sono parlate, finché appunto, ragazzi, è arrivato proprio la conferma dei miei sospetti, praticamente un giorno è arrivato un messaggio, io ringrazio la slice of life che tra l'altro spero che aggiorni presto i sistemi bug perché ne ho bisogno, è arrivato un messaggio ad Alice da parte di Jungkook in cui appunto le chiedeva di mettersi insieme a lui, del tipo io non faccio altro che pensare a te, ti prego, diciamo, usciamo insieme o comunque mettiamoci insieme. Da quella volta in poi, da quella volta in poi diciamo che abbiamo letto questo messaggio che è stato mandato tra l'altro tipo alle tre di notte, quindi immagino che comunque Jungkook fosse ubriaco in quel frangente, me lo immagino fuori ad ubriacarsi con gli amici e sapete quando si mandano dei messaggi da ubriaco a persone che non si dovrebbero mandare, ecco. Niente, Alice l'ha tenuto questo messaggio per sé, non l'ha cancellato e ha deciso di comunque ignorare del tutto Jungkook e di terminare diciamo tra virgolette quella sorta di amicizia anche perché appunto sua sorella aveva ragione, Jungkook non è per niente innamorata di lei, cioè i sospetti di Veronica erano giusti. Comunque Veronica essendo sempre stata innamorata al 100% di Jungkook purtroppo non ha mai avuto il coraggio di lasciarlo mai anche se non c'era quella chimica niente lei è sempre stata diciamo innamorata e lui Jungkook è stato il suo primo amore il suo primo fichi fichi quindi per lei diciamo lasciarlo sarebbe stato diciamo un'impresa una cosa molto brutta quindi ha deciso di continuare la relazione fino ad un pelpo fino all'entrata appunto all'università da parte di entrambe perché entrambe appunto hanno studiato cioè stanno studiando all'università è durata un bel po' questa questa relazione ovviamente le sorelle comunque hanno ripreso comunque i rapporti perché comunque Veronica si è scusata dopo che ha visto che appunto Alice si è allontanata da Jungkook e che comunque ha notato che le parole di Alice fossero vere ha deciso di diciamo di chiederle scusa e Alice l'ha perdonata solo che ovviamente il rapporto non è più come prima cioè da un bel po' nel senso non è molto stretto stretto cioè si si vogliono bene però ovviamente Alice è un po' rancorosa quindi questa cosa non gliela fa ovviamente pesare sempre con qualche battutina con qualche cosa appunto nei suoi confronti a riguardo eccetera e Alice si sono trasferiti in una dimora nel quartiere universitario non ricordo esattamente il nome scusatemi e ha notato appunto che Jungkook comunque non la chiamava quasi mai non l'andava mai a trovare non le dava mai attenzioni lui era sempre molto freddo via messaggi ragazzi c'è stato appunto una festa universitaria che si è tenuta appunto a casa a casa appunto loro che ha organizzato Alice questa volta è stata una festa molto bella io ragazzi purtroppo non me lo posso dimenticare perché io stavo controllando Alice in quel momento che stavo appunto cercando di farla flertare con qualcuno ragazzi vado a sentire la canzoncina del fichi fichi e mi accorgo appunto che Veronica stava facendo non fichi fichi cioè in realtà era un'interazione appunto di una mod un fichi fichi con uno sconosciuto cioè uno sconosciuto proprio conosciuto proprio alla festa in quel frangente e io ragazzi sono rimasta proprio cioè sono rimasta scioccata perché lei era ancora in una relazione con stava appunto in una relazione con JK con Jungkook quindi sono rimasta un po' un po' sbalordita un po' spiazzata ho detto ma cosa cavolo è successo anche perché io tra l'altro ho notato cioè io avevo fatto delle foto appunto mentre diciamo mentre lei e questo tizio appunto stavano insieme lei appunto giocava su Copong le avevo lasciate proprio così che entrambi giocavano su Copong però a quanto pare a come l'ho interpretata forse lei era così ubriaca che praticamente si è lasciata andare un po' troppo ai flirt di lui dato che comunque le mancavano le attenzioni di Jungkook si è lasciata andare a questi flirt da parte di questo sconosciuto e e me è successo l'hanno fatto vado a farle fare appunto un test di gravidanza alla povera Veronica perché appunto io appena ho visto l'interazione sul bagno ho detto no la moda è entrata in azione esattamente e ragazzi e ragazze incinta non potete immaginare la reazione di Veronica cioè lei era distrutta ma proprio distruttissima cioè non sapeva comportarsi era proprio distruttissima era da sola con un peso così grande il padre tra l'altro era uno sconosciuto che ha conosciuto alla festa che poi tra l'altro sono uscita a risalire a scoprire che era un professore ragazzi un professore universitario del corso di Veronica comunque è stato un po' un periodo un po' sofferto un po' travagliato anche perché comunque ripeto Jungkook si faceva sentire poco e niente quindi Veronica teneva questo segreto diciamo nascosto eccetera provava comunque sempre diciamo a invitare Jungkook ma lo rifiutava provava appunto a tenere segreta questa gravidanza in tutti i modi possibili con maglioni su maglioni con qualsiasi cosa con qualsiasi scusa perché appunto lei era così intenzionata a voler far continuare la relazione con Jungkook perché era così ossessionata da questo primo amore che appunto non diciamo non voleva che le cose tra lei e Jungkook finissero peccato però che appunto alla fine dopo una bella chiacchierata con Alice si è finalmente decisa di mettere fine a questa diciamo alla relazione con con Jungkook solo che ovviamente lei si aspettava diciamo una relazione un po' diversa una relazione un po' diversa da lui secondo me anche lui aspettava questo momento cioè non è che proprio le voleva mettere punto fino alla relazione però ovviamente ha detto proprio esplicitamente grazie alla wellness pregnancy mode ha rivelato a Jungkook che il figlio che aveva in grembo non era suo non era appunto di Jungkook ma era di qualcun altro Jungkook prima è sbiancato poi ha sorriso tipo wow un'opportunità per lasciarla ma poi si è incavolato perché ovviamente cioè tu che mi fai tutti i discorsi su Alice sulla gelosia perché ovviamente ha litigato ci sono stati periodi di litigi che appunto hanno litigato anche per Alice eccetera ci sono stati un po' di periodi del genere tra tira e molla un po' di quanto riguarda questa situazione e tu ti azzardi a fare una cosa del genere guarda io non ti voglio vedere più per me questa relazione è finita addio e ti tieni tu i bambini e te li cresci tu da sola io non voglio avere più niente a che fare con te perciò immaginate la faccia di Veronica cioè non si aspettava una situazione del genere proprio tristissima ha anche smesso di studiare ha lasciato diciamo l'università ha lasciato andare l'università infatti è ancora rimasta il primo semestre cioè non è riuscita ad andare avanti assolutamente non ce l'ha fatta più a studiare si è stendita il mondo cadere addosso non riusciva a togliere le foto dalla sua camera del dormitorio ha continuato quella gravidanza da sola anche perché l'amante tra virgolette comunque quello con cui è rimasto incinto praticamente lui se ne è strafregato del figlio cioè non gli ha dato neanche diciamo qualche assegno qualcosa cioè nulla perché lui era già sposato cioè tra l'altro era già sposato e tu ti sei comunque approfittato di una studentessa ubriaca cioè fatti un po' schifo e poi ovviamente amici e amiche dovevano nascere questi bambini con questo bambino eccetera ecco io pensavo che fosse solo uno e invece no amici sono nati tre gemelli tre gemelli cioè dove devo sbattermela la testa cioè è una famiglia di gemelli io non cioè tutti i gemelli praticamente io infatti sono sono sconvolta sono sconvolta lei infatti adesso vabbè ora comunque vi faccio vedere un po' dove si trova eccetera cosa sta facendo al momento ma tre gemelli ci rendiamo conto mamma mia che tra l'altro i tre gemelli sono Matthew Charlotte o Charlotte e Evelyn cioè ragazzi che casino che casino comunque tra l'altro grazie alla Wicked Wims come potete vedere qui da parte lei si sta munendo di pillole anticoncezionali cioè nel senso lei usa pillole anticoncezionali per evitare appunto di restare incinta sempre tamponi utilizza determinate cose sempre diciamo fa attenzione perché lei appunto ragazzi come potete vedere non è anche se è amante della famiglia non vuole una gravidanza in questo momento per lei i tre figli già bastano e avanzano non ne vuole assolutamente più cioè è stanca si è pure diciamo ha pure abbandonato tra virgolette il nido che aveva con la sorella tra virgolette universitario per andare a vivere in un appartamento a del sol valle che tra l'altro del sol valle è la città dei suoi sogni perché lei appunto come potete vedere vabbè vuole diventare amica del mondo che tra l'altro ci sta riuscendo che è un'aspirazione molto difficile però ce l'ho fatta perché lei come vi ho già detto è sempre stata la quimbida la situazione ha sempre amicizie ha sempre tutto eccetera e c'è stato un po' di casino comunque ragazzi mi sa che devo fare una terza parte una terza parte per Alice perché mi sa che non riesco comunque a racchiudere tutto a racchiudere tutto in un altro in un altro episodio mi sto accorgendo proprio questo pensavo di arrivarci e invece no ci vuole un altro aggiornamento quindi una terza parte vabbè mi dispiace dovrete sorbirvi un'altra terza parte prima di fare ovviamente quant'altro per ora lei si trova a del sol valle ovviamente grazie ai suoi genitori comunque al supporto dei genitori è riuscita ad acquistarsi appunto una stanza in questo appartamento qui a come vedete appunto a del sol valle che non ho creato io ovviamente è già stato creato da another plan bob in questa zona di del sol valle praticamente quella un po' più in cui ci sono attori in cui c'è vanessa eccetera eccetera praticamente che sta sempre diciamo da questa parte e si è presa questo appartamento che lei tra l'altro adora si trova benissimo qui ci sono ovviamente altre stanze eccetera ci c'è ovviamente l'ascensore ci sono le scale per salire ci sono altri piani che ovviamente non si vedono perché questo è un appartamento apposito fatto con stanze finte in cui ci sono magari sim che salgono qui sopra questo appartamento l'ho arredato tutto io ho cercato di renderlo più confortevole e meno lossoso possibile perché appunto al momento lei ha soltanto 10.000 simoleons è fatta aiutare dai suoi genitori perché ovviamente i suoi genitori sono super ricchi quindi le hanno dato diciamo le hanno aiutato a prendere questo appartamento e poi lei comunque sta lavorando al momento come influencer è arrivata al livello 4 comunque della carriera per avere appunto una carriera incentrata sulla moda comunque sul fashion aprire una sua linea di trucchi di cosmetici eccetera quindi vuole proprio fare la fashion blogger essere onesta però al momento si accontenta di lavorare appunto su Instagram come diciamo esploratrice di Instagram no? che diventa diciamo un po' un personaggio pubblico anche perché ha intenzione ragazzi e ragazze di pubblicare appunto la sua storia e di farla pagare praticamente a Rohan Rohan cioè lui che tra l'altro adesso fa il bagnino perché appunto l'hanno cacciato fuori l'hanno cacciato via proprio perché appunto questo diciamo questo maledetto praticamente è stato scoperto appunto dalla direzione universitaria che ha fatto appunto una cosa così spregevole e quindi praticamente è stato cacciato via dall'albo degli insegnanti e direi che te lo meriti pure e infatti se tra l'altro andiamo ad aprire qui ah non c'è non ci sono più i sentimenti comunque lui aveva il rancore nei suoi confronti sono scioccata veramente tra l'altro che faccia da cavolo tra l'altro guardate qui gemelli lui tra l'altro è la fotocopia di suo padre mamma mia la fotocopia di suo padre mamma mia mamma mia e qui ci sono le bimbette che ognuno è tipo sono quasi tutte diverse sono quasi tutte diverse dagli altri e mi fanno impazzire questi tre gemellini ma proprio tantissimo la nostra carissima Veronica tra l'altro ha cominciato a riprendere un po' la palestra cioè ha cominciato a riprendersi diciamo ha deciso di prendersi cura di se stessa dato che comunque adesso diventerà un influencer vuole diventare famosa comincia a postare foto un po' più un po' più così un po' più colà e quindi diciamo vuole diciamo mettersi in forma non per forza essere al 100% chissà che modella però vuole mettersi in forma ha cominciato ad andare in palestra ed ha conosciuto Owen allora io ho scoperto prima passando il mouse che Owen è sposato è sposato con Tain e come potete vedere è un allenatore allenatore è la palestra in cui va lei cioè l'amore comunque tra loro è sbocciato tipo a primo colpo nel senso che comunque questi due si sono conosciuti mentre lei diciamo si allenava lui le faceva d'allenatore lei ha cominciato a provare diciamo le ha avuto le calorie tra virgolette su di lui c'è stata diciamo una sorta di fighi fighi veloce nella doccia e hanno cominciato a sentirsi lui ha invitato per gli appuntamenti e quando lei gli ha chiesto ad Owen se fosse single lui gli ha risposto che era single che non stava frequentando nessuno secondo me appunto amici è successo qualcosa secondo me lei ha scoperto qualcosa anche perché lei ha un sesto senso molto elevato poi comunque abituata con la storia di Jungkook eccetera con Rohan che anche lui era sposato cioè mamma mia amici che tragedia che casini cioè veramente non se ne può più faccio vedere un attimo i tratti lei è estroversa snob amante della famiglia compassionevole bebe felice anche lei buone maniere doti sociali controllo emotivo responsabile non vuole una gravidanza in questo momento incredibilmente amichevole e socievole quindi è tipo un mix di brava ragazza quindi socievole però ragazzi non si può avere tutto dalla vita e infatti è tipo diciamo è molto sfortunata in amore cioè tantissimo sfortunata in amore rispetto alla sorella che poi ovviamente vedremo in un altro episodio infatti come potete vedere vi lascio un attimo con questo moodlet è difficile stare vicino a un bambino che ispira molto più panico e tristezza che gioia non è colpa del bambino non è nemmeno necessariamente colpa dei genitori se Veronica provasse a spiegarlo agli altri incontrerebbe solo orrore e giudizio ma come si può costringere se stessi a non provare la tristezza che si prova e a provare una velocità che non si prova e forse c'è amore per questo bambino da qualche parte dentro Veronica forse ma per ora non può essere trovato ho sentito travolto dal turbamento perché questa reazione secondo me ce l'ha più quando vede lui Matthew perché quando vede Matthew nota proprio una somiglianza palese con Ron con colui che comunque si è approfittato l'ha più quindi questa cosa la lascia un po' prendete perplessa e non sa appunto come togliersi questi pensieri dalla testa cioè lei ragazzi è la quimbi del drama Veronica spero che riesca a trovare l'amore della sua vita un giorno perché povera ha sempre avuto sfortuna in amore allora eccoci qui con la nostra Veronica Ortis guardate un po' che bellezza cioè è di una bellezza disarmante e o non è meravigliosa tra l'altro è molto simile alla mamma ma coi colori del papà praticamente cioè la amo poi questi capelli secondo me le stanno davvero benissimo ha deciso di cambiare ed è un po' che ha deciso di fare appunto questi cambi appunto dal livello del look ha deciso di vestirsi un po' più da adulta questo è il suo abito il suo primo abito quotidiano questo è il secondo abito formale come vedete molto da star perché le ragazzi lei già vuole diventare una star comunque amici e amiche se non si è capito il colore preferito di Veronica è l'azzurro e il blu cioè tanto per farvi capire abito sportivo come vedete è tornato in forma abito da notte abito da festa wow che meraviglia che meraviglia costume da bagno clima caldo che amo questo vestito come l'estate tra l'altro clima freddo parte 1 e clima freddo parte 2 è o non è meravigliosa Veronica cioè è di una bellezza allucinante e guardiamo i bebè ecco qui Matthew cioè è la fotocopia del padre ed è curioso cioè è adorabile lo faccio vedere velocemente abito formale da notte da festa clima caldo e clima freddo 1 e clima freddo 2 poi abbiamo Charlotte che ragazzi è o non è una patatina adorabile cioè io l'adoro è troppo troppo carina questo è il suo abito da festa tra l'altro questo è il suo abito quotidiano che patatella che patatella abito formale abito da notte abito da festa abito ho costume da bagno da caldo e abito da freddo cioè è o non è adorabile questa bimbetta e poi abbiamo Evelyn ecco Evelyn che carina e comunque lei ha più diciamo ha colore di capelli molto più scuro secondo me appunto lei è diciamo molto molto diversa dal diciamo dagli altri due secondo me Charlotte e Matthew sono molto simili mentre lei è molto diversa da entrambi Charlotte tra l'altro ha come tratto indipendente e mentre lei è accattivante questa carinetta qui poi abbiamo abito formale abito da notte abito diciamo da festa costume da bagno abito da caldo e abito da freddo adorabili bene amici e direi che con questa immagine di Veronica che abbraccia la piccola Charlotte direi che possiamo concludere qui questo secondo aggiornamento di questa famiglia molto ma molto ricca di drama ok non pensavo che potessi dividere questo questa current household in più aggiornamenti perché non me l'aspettavo minimamente però mi trovo costretta a farlo anche perché appunto le dinamiche di ogni famiglia sono particolarmente diverse ed hanno una storia praticamente molto intrecciata e molto particolare da spiegare e nulla amici spero che questa storia di Veronica comunque questo suo passato tutta questa questa sua situazione drammatica vi sia piaciuta ovviamente giocheremo anche con lei il nostro obiettivo con lei è di trovare l'amore della sua vita che non sia un traditore seriale uno sposato nulla amici spero che questo video vi sia piaciuto se si lasciate tanti piaci e commenti ci vediamo nei prossimi video un bacio e ciao ciao